Di recente abbiamo avuto l'occasione di scoprire nuovi titoli in uscita per la nuova console Microsoft Xbox Series X. In questo video vedrai i 5 migliori giochi annunciati per la console Next Gen. Ci tengo a precisare che la lista è stata stilata seguendo esclusivamente dei gusti personali e che ognuno può dire la propria qui sotto nei commenti, anche perché non vedo l'ora di scoprire quali sono i titoli che secondo il tuo parere potrebbero meritare di più. Per chi non lo sapesse, Xbox Series X è la nuova console Next Gen di Microsoft, controparte della recente annunciata PlayStation 5 di Sony. La sua uscita avverrà nei prossimi mesi e nel frattempo gli utenti hanno avuto già modo di scoprire alcune esclusive e nuovi titoli in uscita per la prossima console. Detto questo, passiamo alla stesura dei nomi che più mi hanno colpito. Non è una classifica, quindi i nomi che vedrai sono piazzati in ordine casuale. Il primo dei titoli che hanno certamente attirato la mia attenzione è Watch Dogs Legion, presentato da Ubisoft ed in uscita il 29 ottobre. Il nostro obiettivo sarà quello di sconfiggere gli opportunisti della Londra futurista, ossia creare una resistenza anche grazie all'aiuto dei nostri amici nella modalità co-op con le relative missioni dedicate. Secondo titolo è Dragon Quest XI S, presentato da Square Enix e in arrivo per il 4 dicembre. Quest'ultimo sarà disponibile anche con l'abbonamento a Xbox Game Pass. State of Decay 3 è il terzo titolo dei giochi che mi hanno più colpito e che attendo maggiormente. Non c'è ancora una data di uscita per questo titolo. In ogni caso mi aspetto che esca sia per PC sia per Xbox. Quarto titolo è Fable, un ritorno di fiamma di uno dei nomi più attesi di questo 2020 con la Next Gen. Dietro il suo sviluppo c'è Playground Games, azienda già famosa per aver sviluppato i titoli della serie Forza Horizon. Eh sì, anche Forza Motorsport è nel mio interesse, ma non da considerarlo nei top 5. Già lo so cosa stai pensando, ma che dire, dei gustibus non est disputandum, non si può discutere con i gusti. Infine, il quinto ed ultimo titolo di questo elenco è Sinuans Saga Hellblade 2. Quest'ultimo sfrutterà il nuovo Unreal Engine 5 e sarà sviluppato da Ninja Theory. Se anche tu sei d'accordo con questa lista, fammelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale e lasciare un like al video per vederne altri. Noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!